Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria nel 2020 a Feltre, ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Matteo. Domenica 31 ottobre, a partire dalle 8.30, il Centro Storico ospiterà la 19esima Mostra Mercato dei Prodotti Tipici della provincia di Belluno, organizzata dall'amministrazione in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti di Belluno, l'Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente della Lucia di Feltre e i Consorzi dei Prodotti Tipici. Durante la giornata i visitatori potranno trovare prodotti agricoli, agroalimentari e dell'artigianato rurale provenienti principalmente dal territorio feltrino, ma non solo. Novità di quest'anno, gli espositori non dovranno corrispondere a alcuna quota di partecipazione, modifica pensata per sostenere l'agricoltura locale dopo la crisi che ha colpito pesantemente il settore in seguito alla pandemia. Stiamo lavorando agli ultimi dettagli del programma che sarà improntato, così come il regolamento di ammissione degli espositori alla Fiera, alla massima valorizzazione dei prodotti della nostra terra e dell'ambiente che ci ospita, sottolinea l'assessore all'Agricoltura e all'Ambiente del Comune di Feltre, Walter Bonan, che aggiunge il segnale di ripartenza dato dalla Fiera di San Matteo, è rilevante non solo per il settore dei produttori agricoli ma per tutta la comunità. La rassegna si terrà nel pieno rispetto delle normative in vigore relative agli eventi fieristici, per l'osservanza delle quali, in spirito di collaborazione, saranno impegnati, oltre ai volontari, gli stessi espositori.